Oggi si pedala al mare. Eccomi qua ad Arenzano in Liguria vicino a Genova. Guardate che mare limpidissimo, è uno spettacolo anche nuotarci. Oggi non ho noleggiato logicamente da Ferrari Ski Service perché sono qua in Liguria e non ho una seconda sede in Liguria. Ho noleggiato un e-bike Fantic di ammortizzata simile a quelle che noleggio, stessa batteria. Ecco io oggi percorrerò a Arenzano fino alle Ligure seguendo tutto il mare. Vedete che è ancora una ciclabile bellissima. Io questo è il percorso andata a ritorno da Arenzano e vediamo. Pedaliamo e scopriamo tutto il percorso. Per me è una novità questo percorso. Andiamo a pedalare. Grazie a tutti. Qui mi trovo nel porto di Varazza. È un bellissimo porto con soprattutto barche di lusso perché c'erano anche barche nuove che stavano sistemando veramente per sciuri sciuri. E il mare è sempre bello, bello limpido così. Spettacolo. E poi oggi è una giornata tip top. Continuiamo la pedalata. Ecco adesso prenderò la statale e dopo rientrò sulla ciclabile più avanti. Pedaliamo. Eccomi qua, c'è l'elivo. Ho fatto un pezzo di statale e rinizio un attimo la pedonale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E' solo un piccolo tratto di marciapiede pedonale. Ecco, devo andare piano e stare attenti. però vedete che è bello largo. A Savona dove c'è il Garibaldi ricominciamo la pedalata, la videopedalata. qui a Savona termina la mia gita turistica in e-bike. perché da Renzano a Savona si riesce ancora ancora dopo. Savona è abbastanza trafficata come vedete di camion e così. E' una città abbastanza affollata e passare sulla strada non è bellissimo. quindi però fino a qua potete arrivare. Sono già a 26 chilometri quindi andate a ritorno e fate 50 qualcosa di chilometri e solo in andata sono 170 metri di slivello. quindi tutto pianeggiante ma avete visto il paesaggio è bellissimo. per un'uscita dato che chi viene al mare non va solo in e-bike. va col kayak, va col soup come faccio io e fa mille sport e nuota soprattutto. eccoci però uno abituato alla montagna come me va soprattutto per nuotare e per fare altri sport. Ecco vi saluto. Se vi è piaciuta la pedalata cliccate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima pedalata. Ciao! Ciao!